non è che necessariamente ti chiedono di uscire però ci sono cioè se tu guardi appunto dalla mappa non li vedi vediamo un attimo hai deciso cosa facciamo oggi non so se possiamo uscire però vediamo facciamo insieme mi piace che abbiamo imbarazzato ora sì cara mia attenzione in serie con te se proprio vuoi a parte una strategia più ampia molto ampia conquistarvi tutte proprio così sì forse potremmo prenderselo con un po più di calma vedremo se io voglio vedere se si scioglie questa qua apposito la vista al quartiere a luci rosse oggi hai tempo potremmo avvicinare bene puoi uscire ok andiamoci in treno ma non è una mano sul seduti vicini 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 beh io vado a farmi un giro sì sì allora lì c'è un tombino fighetti dentro che folla deve essere davvero il più grande quartiere a luci rosse di tutta la di tutta l'asia addirittura ascolta l'economia migliora tra due o tre anni andiamo tutti a tokio va bene andiamo a vedere questo quartiere pare fosse un covo di criminali e clandestini prima che installassero le telecamere sorveglianza a e pare che ospitasse anche diversi bordelli e zac chiaramente non devi dire due stand a simona diciamo andiamo giappone dunque sei molto bene informata resta più vicina ma lei 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 è mentale secondo me bisogna andare sul mentale con lei e lo so che il resto vicina ma lei per me è meglio questa so proviamo che è un test due note quindi quindi per mio padre me ne ha parlato molto ecco quello che io non ho visto se ma secondo me non ci sono non ci sono sempre le risposte a tre perché nel spiritiare velocemente non quella uno non quelle che proprio non vanno bene e tra l'altro forse l'avevamo fatto un po con anno per sbaglio all'inizio con anno ci divertivamo prendere un giro di ricordi e ne abbiamo sbagliato forse con anno un po un po di volte però credo che le tre siano rare le più comuni sono 1 e 2 e le tre sono proprio delle possibilità ogni tanto quindi secondo me appunto lei mentale bisogna cogliere su quel più perlomeno all'inizio questa però la prima volta che ci metto piede modo oggi è un posto molto più sicuro che in passato naturalmente le telecamere sorveglianza hanno giocato un ruolo fondamentale essenziale è stata l'opera di epurazione della polizia nonostante sradicare il crimine del tutto è impossibile ho come l'impressione che oggi le attività criminali siano solo meno visibili a ogni modo vedere per credere no forza andiamo un'occhiata in giro dobbiamo andare ancora anche da chihuahua la richiesta in malcotto abbiamo attraversato shinjuku separati ma va bene il numero di uomini hanno tentato di approcciarla chissà se rispondendo l'altro non mi aspettavo questa cosa l'abbiamo seminato quel tizio era così insistente doveva esserci un reclutatore di intratrenitrici le sue ragazze guadagnano bene diceva ma è ancora quel tizio la non è che possiamo andare a menarlo io volevo solo chiedere se lì lavorava qualcuno della sujin lui mi ha quasi trascinato dentro non ci fosse stato tu a salvarmi io e vedi però l'abbiamo salvata questa è sfotta questa no no poteva essere pericoloso tre note ce n'è una da tre questa volta per lui forse all'ultimo punto di doverlo mettere fuori il combattimento mi può dare se io ce la vedo come come giudocale sono felice che nessuno si sia fatto male si vede che è così che fanno oggi ho imparato una cosa nuova tanto mi fa venire mentre gli acquisa quando riuscirò a stare sentirmi bene continuerò di sicuro o è ancora grazie a quanto pare è un vero talento nel cavarmi di impiccio giorno spero di poter ricambiare sì ma non in quel senso il buca ma koto la fa pessa vabbè siamo proprio inizi con lei eh vedi che abbiamo tutti la deformazione detto ciò anche se questo è un quartiere commerciale non ci sono studenti in giro certamente non ci sono studenti della sujin anche se di sicuro non verrebbero con la divisa quindi bene tutto sicuro però non verrebbe con la divisa quindi sai che ho visto a proposito ho intravisto persona 5 base vedere il testo orrende già queste sono un po sfocate non sono non sono comunque già potevano farle molto meglio punto e basta perché non ps4 per queste due cavolate qua ci voglio dire si vede bene gli accusa figurati sono molto migliori queste di quello ho trovato uno di studente e quella la si sta andando quella era il tempo ero in classe con lei ma perché si trova qui cos'è io non so leggere come si scrive after school saloon un salone di bellezza parrucchiera perché dopo scuola perché si chiama saloon questo mi sembra essere sembriamo ignoranti in entrambi i casi però questa fosse sollettica un po' più la sua un intelletto non sono sicura ma mi sembra un luogo sospetto anche a me ne farò qualche domanda riguardo perché ti deve rispondere scusa ti manda a quel paese oh e vorrei che ci fossi anche tu come testimone potresti certo siamo stati un bel pezzo qui possiamo tornare a stazione vabbè ok la domanda buona evidentemente grazie per oggi dobbiamo tirare su gentilezza dicevamo operativo di nuovo ok volevo ringraziarti di nuovo per essere venuto oggi non avevo mai avuto a che fare con un imbonitore non sapevo che potessero essere così insistenti oggi è stato massacrante ma ho imparato molto la pratica è l'insegnante migliore dobbiamo diventare angelici molto alla svelta tanto angelici che ci proviamo con tutte mi sembra la prima sono completamente d'accordo qua due sinceramente ho capito di non poter risolvere da sola questi problemi infatti di oggi a me non ho chiarito le idee devi avere un uomo al tuo fianco voglio anche indagare sulla studentessa della Shujin che abbiamo visto lì sarebbe fantastico ricevere aiuto da parte tua per il momento ci vediamo all'inizio sono tutte molto freddi cioè nel senso formali quanto meno e è già freddi cioè lei è già un po' iperformale di suo e non dovesse dire la veggente ok andiamo alla veggente c'è Shujin ma in teoria non ci fa fare niente proviamo un'altra volta vedi niente l'argomento è sempre quello abbiamo confermato siamo bloccati con suo giro questi ascoltiamoli ehi penso che anche la nostra azienda ci stia sfruttando non ci pagano quasi mai straordinari non so vediamo non ti pagano quasi mai straordinari secondo te ti sta sfruttando oppure no non so qualche dubbio chissà però scommetto che ce la possiamo che ce la passiamo meglio di quella della Okamura buon per voi diamone tutto bene tutto bene non lavorare troppo non posso pertenermi il lavoro tutti gli altri stanno contribuendo schiavi schiavi salariati fit fit azione grazie il carriera delizioso con chi stai parlando forse gli ho offerto allora andiamo dalla veggente ma sono curioso di vedere cosa ci dice era a Shinjuku no? allora va cinema il cinema potrebbe aumentare la nostra conoscenza ha detto ehm ehm qua quello qua è uno stronzo è un attimo ho messo gli occhi su di te e sto per mandarti la mia lettera di sfida lettera di sfida per cosa? ci sono reticato eh beh in tal caso dovresti vedere il nostro nuovo prodotto però non ci lascia non ci lascia per curarlo abbastanza a lungo a chi ci casca? pare presuntuoso ragazzo non sono un ladro ma posso farti implorare pietà sono più alti di lui di 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 la coppietta arrenditi su l'era di a che cq non è finita sta zitto ammasso di muscoli senza cervello aspetta e vedrai svelerò a tutti i carazzi i mostri sono quei ladri di che stai parlando? quando ti infervole diventi più mostruoso del solito e questo invece? questo anzi come è fatta la cena con i pezzi grossi della Okamura? fammi avere le foto del nostro talento questa è una cosa seria idiota cosa come pensiamo di cavarcela se no sono uno sponsor importante di quelli che non si possono perdere perciò dobbiamo prendercene cura eccola salve cos'è il suo cat marina lei a parte che è una truffatrice per ora sembra allora la sua sorte è mutata dille il risultato certo bene raccontami tutto prego accomodati bontà divina il suo compagno ha smesso di molestarla non riesco a crederci credici chiamala appena la vede dentro pure il fatto la condurrà comunque verso la sventura senza alcun cambiamento magari ha ragione non lo so ecco guarda cosa che devo guardare le carte cosa? ma no ce l'abbiamo fatto a cambiarla la sequenza dell'arcane è diversa la morte si è spostata più avanti nel futuro sì quando morirà cosa inalterarmi il fatto non è assoluto oppure i cuori possono essere svegliati cioè è molto più attinente il fatto non è assoluto però la offendiamo no no deve essere una specie di trucco ascolta le corde le vendono è per caso un truffatore hai fatto un patto con il suo compagno o qualcosa di simile vero? ma che tipo strana non ho fatto nessun patto l'ho convinto no non ho fatto nessun patto è la verità cosa hai fatto? pagami 200.000 yen te lo dico lei ha negato una baglia di Tokyo o l'hai chiuso in un barile di metallo ricoprendolo di insetti deve aver fatto qualcosa di drastico saprei fare nulla di simile sono un semplice studente percuriamolo ancora un po' beh siamo una persona comune si decisamente comune solici te ma non puoi aver fatto una cosa simile senza infrangere la legge ho un semplice studente del liceo cambiare il corso del destino c'è sapere dove arriviamo con lei va bene voglio mettere alla prova il tuo potere il potere che ha alterato la predizione dei miei tarotti questa è una cosa seria per una gente come me devo saperne di più devi fare nulla se ti accanto a me durante la predizione dovessi presentarsi un fatto ineluttabile testerò il tuo potere ok quindi presumo che dobbiamo arrivare ad un altro obiettivo però non accetta non ci guadagni nulla sì forse hai ragione ci sono ti leggerò il futuro ancora cosa c'entriamo noi per favore avrai la presidenza rispetto agli altri clienti quali clienti non c'è nessuno questo è il suo giro 2 inoltre conoscendoti meglio potrò fare predizioni più accurate adesso ci legge il destino sempre ma che ci serve adesso vediamo che dici stringiamo un patto altrimenti non so come farò ad andare avanti per favore ti prego ti prego ti prego ti prego devo sapere se il fatto può essere cambiato ok va bene davvero sicuro ok sono impaziente di testare le tue abilità vediamo cosa ci offre praticamente non darmi buca ok abbiamo stretto un patto aspetta un attimo ok adesso diventa un confidente immagino che andiamo la sai c'era qualcuno che ti predigeva sentiamo cosa è a meno che tu non abbia avuto fortuna non puoi aver commesso così tanti crimini in serie porta fortuna chihuahua o consultavi qualcuno per ricevere indicazioni dettagliate stavolta non te la caverai con la fortuna ok diventa confidante ciao Simona è la fortuna quindi ok quindi uscendo con lei ci darà delle possibilità vedi qua aumenta temporaneamente il tasso di crescita di una dota sociale cioè cosa vuol dire temporaneamente non c'è scritto chance di aumentare temporaneamente magari ci avverte lui che è bene leggere un libro in quel momento che se no non capisco il senso aumenta temporaneamente il tasso di crescita di una dota sociale che però ci chiama lettura della buona sorta ok sbloccato confidente la dota della fortuna vabbè ma probabilmente è importante lei il fatto può davvero essere cambiato è vero allora tu sei inutile oh siamo totati per oggi basta così l'ora del tuo coprifuoco è passata ma che che vabbè il Giappone è conservatore mezzo fascistoide praticamente si vede che si vede che gli studenti devono andare a casa una certa ora sono i poliziotti iniziano a partire veramente le palle ah 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 mi sono scurato il tuo numero mi sa se si può conquistare anche lei non credo più ci siamo non mi piace è carina lei ma come è vestita proprio ti contatterò presto quindi vini per la verifica ok ti consiglio di non piantarmi in asso altrimenti potrei anche ricorrere alla magia nera ah però che palla sei un po' esagerata due volte voglio solo dimostrarti che faccio sul serio dopo tutto è per il nostro patto mi spiazza averti rubato così tanto tempo fai attenzione si ha dieci ranghi però ha dieci ranghi ma non è che puoi uscire cioè non è che hai le romance con tutti e tutte non so se mi spiego cioè i maschi non ce li hai 84 e 2 venerdì ora stanno portando i ladri non sono un po' in ritardo questa volta io non sto più nella pelle già potrevo schiacciare Okamura come una mosca i ladri dovrebbero sbrigarsi comunque adesso dobbiamo entrare dai non solo di lui ma di tutta quell'azienda che sfruttano indipendenti già ci sono problemi anche da noi sai certo milioni di aziende ci dividiamo siamo ubiqui se ne elimini uno devi fare lo stesso con tutti gli altri è giusto così perché devono farci passare l'inferno ah magari perso una sento introdurrà anche quella cosa lì ascoltate fate silenzio cambio di programma per oggi ripasseremo il materiale della settimana scorsa vi suggerisco di stare attenti pensate di battere la fiacca d'accordo non lo tollererò non si batte la fiacca ma non dobbiamo avere il tempo libero con lei non capisco quello era il segnale allora oggi possiamo battere la fiacca questo è il segnale però Kamie ci ha gentilmente concesso il tempo libero dovremmo farne buon uso allora qual è il piano ok questo leggi crei strumenti dormi cosa serve dormi ascolta la lezione forse ci dà coscienza forse ci dà perizia e dormi diciamo la lettura un attimo che voglio dire c'era un'altra cosa che do andremo a andare anche in biblioteca a vedere acquisterai coraggio niente uno speciale sui planetari non abbiamo un cavolo per non abbiamo niente per la gentilezza cosa il biliardo lo ha un letto cosa facciamo questo del santuario oppure facciamo gli strumenti anche Perizia era lì questo è tempo limitato non potrei essere efficiente come al solito ma meglio di niente Grimaldelli ce l'abbiamo la sequenza tra qua il tesoro i demoni del tesoro nei palazzi i demoni del tesoro sono quelli là il reggente eccetera ascolta non è che si annulla tutto proviamo un secondo ok ecco con le santuari che dovrebbe aprire delle location nuove mas per tutti gli amanti e santuari santuario Maggi sembra un luogo piuttosto mistico è un famoso luogo di culto noto per i suoi sentieri da percorrere a piedi ma ci portiamo i fumi magari più che altro posti così tranquilli sono sempre rilassanti e piacevoli da visitare soprattutto in compagnia ho finito di leggere quanto pare santuario ha la sua stazione ferroviaria eccolo lì è noto per essere un famoso luogo di potere allora non lo specifica altro un momento devono uscire qualcuno in cui potrà piacere provo a invitarlo qui ok come al solito vero è vero può anche andarci da solo è stato grandioso più tardi dovremmo ringraziare il cavo Akami non vi dico come che flash ho avuto 84 e 4 ritieni che i ladri fantasma stiano andando di matto io ho scritto Kamura spero che se no occupino in fretta ho sentito che è davvero corrotto se qualcuno che ha bisogno di un cuore di sveglio del cuore è lui il consiglio direttivo sta facendo pressione sul vicepresidente la cosa è seriamente sbagliato nel vicepresidente boh è un debole nevrotico non lo so pomeriggio ehi notizie da Keci mi stanno nascondendo ora che tutti gli stanno addosso l'inone pubblica è passata da nostra parte ma dubito si sia arreso e se non ci sbrughiamo i prossimi versagli saremo noi già qualcosa si muove oh c'è l'ora non sprechiamo un momento anch'io vorrei fermare il mio padre per il bene di tutti dobbiamo andare fino in fondo vista la situazione di Abu diamo un attimo cambiato orario per studenti quindi cominceremo di giorno non quando piove però visto che siamo fuori veni di giorno per conoscere il tuo destino e di sera per la prova come capire cosa vuol dire questa cosa cioè se andiamo una sera c'è la prova invece il giorno c'è il destino vieni per oggi radioniamo tutti quanti tipo il gamme hai il suke il shibuya in teoria non possiamo andare nel coso allora no essendo a parte che andiamo no a parte che di solito andiamo sempre a ora quindi sì ma cosa significa conoscere il mio futuro l'uji maruki yusuke e han aspetta un attimo vedi che c'è han senza il doppio punto il doppio punto esclamativo vuol dire che con han in teoria appunto non saliamo perché siamo appena saliti facciamo un giro aspetta facciamo un giro dov'è facciamo un giro a vedere se c'è così così va qua io ho detto di giorno qua c'è qualcosa mi muovo o no dobbiamo aumentare gentilezza scusa ho sbagliato il zona non capisco no è questo ah eccola qua ho visto ho guardato più lontano tu mi incurosivi così io ti ho fatto una lettura ho provato diverse volte e mi sono sempre imbattuta nella carta dell'imperatrice una volta scorsa sentivo che avevi dei problemi con le donne adesso la sensazione è diversa tu però fa attenzione allora vuoi che ti faccia una lettura dettagliata sì voglio vedere cos'è d'accordo a Conaty che tipo di lettura desideri lettura della risultati migliori nell'aumentare le dot la lettura migliorativa ti costerà 5.000 yen quindi dopo questo possiamo fare qualcosa che c'è un boost ok pensa a un'area in cui desideri avere maggiore fortuna la carta dello ierofante a quanto pare trarà i grandi benefici dalle azioni che migliorano la gentilezza oggi è più probabile che aumenti la tua gentilezza per la lettura migliorativa di oggi è tutto spero che tu sia rimasto soddisfatto della tua sorte aspetto di nuovo con cosa migliorava la gentilezza però in questo momento beh dopo scuola ci rimane raffresi e basta mi sa perché che non abbiamo un tubaccio e che tra l'altro anche lì la biblioteca della scuola come facciamo a sapere qual era il libro andiamo a raffresi anche così ti fa lavorare perché così facciamo anche il discorso di individuare il tipo nel memento è comunque interessante questa cosa però forse dovevamo farla molto tempo fa allora qui c'è Ann certo non è il giorno speciale vabbè ormai abbiamo fatto questa cosa comunque dove fare lavorerò o è profissionalmente per lavorare voglio lavorare ok solite cose attento mentre torni a casa ultimamente questa zona è diventata pericolosa è successo qualcosa hai sentito ci sono state delle aggressioni giusto l'altro ieri un uomo è stato ricoverato dopo essere stato assalito assalito da chi è solo una voce ma ho sentito che è stato un famigerato criminale di qui Taizo Naguri la polizia non può fargli nulla senza prove già anche io sono preoccupato ormai prendo solo le strade principali a costo di allungare dobbiamo ancora vedere anche il discorso del cinema però dobbiamo provare ad andare in zona del cinema a vedere magari la rifantasma riusciranno a fare qualcosa con lui visto che la polizia ha le mani legate oh quasi dimenticavo ecco il tuo paga 2 bonus posso arrivare alla cosa ben detto si chiama diamo un elemento dobbiamo adesso che hai un versaglio di assicurarti che tutti i tuoi compagni siano d'accordo vabbè due note non lo so forse ne avremmo prese solo una però può essere se non è la giornata giusta lo vediamo un attimo per qualche news un'ora porto per te un minuto un minuto dici dopo primo dal desiderio che aspetta che non aspetta altro di avere il suo padrone ve lo conforto se lo hai già so che lo sei già ma non mi hai richiesto stasera sarebbe bellissimo se mi richiedessi tiriamolo sì sei il mio preferito però ho presso da te aspettami padrone voglio offrirti altri servizi con la mano sulla coscia godiamoci un attimo per un momento sarebbe fantastico sono un portento con i massaggi miau ti massaggerò ovunque tu voglia ma dai ma ascolta ma basta non ne posso più dire del teasing ti continua a stuzzicare e poi lei è sempre stata la più tremenda di tutte guarda che boccuccia guarda guarda è bene la faccia che ha perché sei sentato a parola adesso beh che te ne pare il fatto è che ho parlato con il capo per avere più turni ma ha detto ma dai è su di vaga ma dover dare la priorità alle donne più giovani quanti anni hai perché sarei curioso ma che maleducato due note diamine non c'era bisogno di dimmelo in faccia l'idea non c'entra niente con le pulizie l'età non c'entra niente con la pulizia questo è sicuro la maggior parte sono sinole più anziane che fanno questi umili lavori e per la mia età sono ancora uno schianto se devo essere sincera vogliamo vedere il mio quartiere dicono sempre che sono carina la ragazzina delle porte accanto mi chiede sempre di legarle i capelli e che cazzo c'entra ti ha scappiato per sua madre che cazzo c'entra cazzo lei ora sono bravissima a fare i codini infatti si vede vedi quindi sono perfetta per fare l'amore aspetta dimmi che sono la sola a pensarlo cosa padrone puoi darmi il tuo parere sincero agli 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 non ha mai niente male vero ma cazzo non c'è tipo sei uno schianto no sì certo però è troppo formale due note davvero mi fido della tua parola ma io volevo sei uno schianto ti voglio ti amo no non c'è cucciola chiedi sempre di me e io non faccio altro che star qui seduto a sfogarmi che diavolo sto dicendo sei un mio studente ancora non deve avere questi ripensamenti ma chi se ne frega esistono le storie così doppia vita da insegnante made espossante forse ho abbassato la guardia perché conosce entrambi i lati di me stessa ma se sempre questa cosa ci tenta e poi c'è i ripensamenti vengo qui più sento di potermi rilassare cogliti pure la maid dovrei aiutare il mio padrone a rilassarsi ma in realtà sono io quella che viene aiutata scusa sono una pessima maid sento la gentilezza di Kawakami che è una depressa ma che gentilezza è egocentrica tutto qua ma vedi ma sei un bastardo Atrus Atrus Devo confessarti una cosa ho mentito sul motivo per cui ho bisogno di soldi una sorella malata anche la storia delle spese e degli extra era una bugia allora qual è il motivo ti piace fare persino insegnate no perché mi hai mentito lo sapevo perché mi hai mentito cucciolo se non inventassi quelle storie nessuno mi chiamerebbe vedi ora capisci vero lasciarsi coinvolgere da una persona orribile come me non porta nulla di buono ma è santo cielo poi guarda ci mostra la sua schiena andiamo lì e spostiamo ha preparato una lezione bacino sul collo mettiamo fine a tutto questo oh cosa dici grazie per aver soffruto ai nostri servizi questa va 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 raddrizzata a letto